ciao a tutti ragazzi e buona domenica sarà innanzitutto una buona domenica io ieri sera mi sono morsicato il labbro infatti come potete vedere c'è una parte più gonfia faccio anche molta fatica a parlare quindi per una volta probabilmente avremo un video abbastanza corto vediamo se riuscirò a mantenere la promessa come ben sapete durante il weekend non escono chissà quali notizie di calcio mercato domani si aprirà una nuova settimana nella quale mi aspetto intanto l'annuncio ufficiale del rinnovo di mattia de sciglio potrebbe arrivare pure quello di pogba allora adesso affronto un discorso che qua sul canale avevo ancora affrontato ne avevo già parlato però su twitch nelle varie dirette che abbiamo fatto sull'altra piattaforma questo famoso documentario di pogba in cui si vociferà sarà lì che pogba andrà a rivelare la sua intenzione dove andrà a giocare l'anno prossimo io credo che sia un po difficile che questo possa essere davvero corrispondere davvero alla verità per un semplice motivo mancano ancora circa due settimane e non credo che la juventus vorrà allungare così tanto i tempi relativi alla trattativa polpo va e non credo nemmeno che fino a quel giorno non ci saranno altre indiscrezioni che possano essere lato juve sappiamo è molto 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 vicino o comunque inerenti a una prossima squadra alla prossima squadra che polpo va nella quale vorrà andare a giocare quindi non credo che per le prossime due settimane su polpo va ci sarà silenzio anzi proprio tutto l'opposto credo che ci saranno diversi rumor e magari possa non dico arrivare anche l'annuncio ufficiale però almeno la firma sul contratto e quindi sapere come è stato per desciglio che il giocatore ha firmato o le visite mediche insomma qualcosa che ci faccia capire da qualche parte dove vogliamo andare quindi queste sono un paio di cose che mi aspetto dalla settimana che viene e ovviamente mi aspetto anche che la juventus possa provare ancora una volta a chiacchierare con angel di marina perché ci eravamo lasciati la settimana scorsa con quell'incontro a londra dove non si erano fatti passi in avanti e quindi vediamo ovviamente la juve deve iniziare anche a ragionare su altri reparti oggi ho visto il video di romeo no di romeo agresti che diceva nei giorni scorsi si è parlato di una possibilità di quadrato che potesse lasciare io tra l'altro lo imparo soltanto oggi e questo poteva essere legato appunto al nome di molina che avevamo fatto anche l'altro giorno anche se lo stesso romeo confermato che quadrato dovrebbe rimanere la juve nella giornata di ieri invece vi ho lasciato su instagram uno swipe up un click in una storia perché gianni balzarini sul numero 10 aveva fatto un nome nuovo per il vicevola un nome che non era ancora uscito ufficialmente sulla lista dei giocatori interessati interessanti per la juventus in quella posizione di campo lì quindi il centravanti di riserva e stiamo parlando del ciolito giovanni simeone ora io anche nella storia avevo detto perché no perché pensandoci bene un giocatore che è nel pieno probabilmente del della sua carriera un classe 95 ha già giocato tanti anni in italia ha giocato in tante squadre quest'anno in particolare ha fatto molto bene ha dimostrato di essere un giocatore con dei colpi ma la sua storia ce lo insegna la sua storia appunto è un giocatore discontinuo che fatica a dare continuità e quindi forse questo gli è costato tante volte anche il passaggio in squadre superiori perché qui in italia ha giocato con genua con cagliari con ellas il massimo se parliamo proprio di squadre che devono puntare a posizioni nobili e classifiche è stata l'avventura con la maglia della fiorentina tra l'altro positiva per i tifosi della juventus perché dovesse arrivare simeone ecco i primi gol simeone con la maglia della juve gli assegnati contro il napoli in quella tripletta a firenze che ci ha poi dato lo scudetto contro maurizio sarri uno degli ultimi scudetti targati massimiliano allegri quindi simeone dei gol per la juve eventualmente li ha già fatti ma ce ne ha fatti tanti anche contro questa stagione ce ne ha fatti due per dire proprio vero una doppietta bellissima e sono quei colpi di cui parlavo prima gli è sempre mancata la continuità di rendimento simeone però è un giocatore interessante se parliamo di essere una semplice riserva di Vlaovic e devo dire la verità se il prezzo dovesse essere davvero sui 15 milioni di euro per me si potrebbe fare dato che stiamo cercando un profilo appunto con esperienza un profilo affidabile un profilo che non deve essere non deve avere pretese di giocare titolare è un giocatore che deve giocare quando Vlaovic deve rifiatare o comunque può entrare a partita in corso qualora Vlaovic dovesse avere dei problemi 15 milioni di euro secondo me non è una cifra altissima l'ingaggio sicuramente sarebbe abbastanza basso perché lui attualmente non percepisce chissà quale ingaggio Tudor che è stato l'allenatore che l'ha fatto esplodere quest'anno a Verona non rimarrà a Verona e quindi ci sono veramente tutti i presupposti affinché il ciolito possa diventare effettivamente un nome interessante per la Juventus io però vado controcorrente sarò anche abbastanza impopolare in quello che vi sto per dire secondo me il perfetto Vlaovic ce l'abbiamo in casa ed è Moise Ken so che per tanti questa cosa non sarà ben vista ma io stesso lo sapete bene credo che sia stato il giocatore che mi ha deluso di più in questa stagione proprio per questo che vi dico che sarebbe stato perché sulla carta Moise Ken è un giocatore che è cresciuto nei giovani della Juve quindi è CTP è un giocatore ancora giovane è un giocatore che può giocare anche insieme a Vlaovic volendo è un giocatore che non parte con l'idea di essere titolare è un giocatore che anche lui i colpi ce li ha c'è un problema solo anzi due che quest'anno Moise Ken dalla panchina è stato decisivo soltanto a Reggio Emilia col Sassuolo nella gara di torno dove vinciamo 2 a 1 proprio per il suo gol sul finale diversamente tutte le partite in cui è entrato non ha fatto mai né gol né assist quindi non ha mai fatto una giocata decisiva ai fini di risolvere la partita esclusa quella lì appunto a Reggio Emilia e in seconda battuta un giocatore di riserva non può costare 40 milioni di euro comprensivi di riscatto il problema è proprio questo la Juventus ha un obbligo di riscatto nei confronti di Moise Ken a partire dalla prossima stagione il che significa che se fa un'altra stagione Ken alla Juventus poi magari anche qua la Juventus è obbligata a fargli fare un'altra stagione ma io questo non lo so perché sul contratto su quello che ci è stato comunicato dalla Juventus sulla nota ufficiale non è specificato la Juventus ha diritto ad avere un altro anno di prestito di Moise Ken 10 anni 10 milioni per due anni di prestito più riscatto a 28 obbligatorio a determinate condizioni sportive nella prossima stagione quindi verosimilmente dovessero essere condizioni del tipo ci qualifichiamo alla Champions dovesse Ken fare un altro anno con noi dovessimo qualificarci alla Champions Moise Ken sarebbe automaticamente acquistato la Juve per 28 milioni di euro più i 10 dei prestiti fa 38 questo diventa effettivamente un problema perché un giocatore che deve essere il vice e comunque quindi un giocatore che gioca meno o che deve entrare e che quindi non incide quando entra e che costa così tanto io credo che questa Juve nello specifico non possa permetterselo poi sappiamo bene che Moise Ken in realtà addirittura ha chiesto di lasciare la Juventus insieme a Pellegrini quindi ci si sta provando in un modo o nell'altro insieme all'avvocato della famiglia Raiola che sta curando gli interessi di Pogba e che quindi sta dialogando con la Juventus in continuazione sia per Paul sia per il rinnovo di De Litt dove si dovrebbe abbassare l'ingaggio ma anche abbassare la clausola recessoria che è una cosa che un pochino mi dà fastidio se devo essere sincero però la Juventus si sta muovendo in questa direzione per cercare di spostare anche Moise Ken che ribadisco per me è il vice Vlaovic perfetto perché anche tante volte anche mi ricordo l'anno di Pirlo quando dovevamo cercare la quarta punta si pensava Moise Ken e secondo me Moise Ken in quel contesto era semplicemente perfetto è ovvio che se invece Moise Ken diventa il giocatore che vai ad acquistare una volta ceduto Cristiano Ronaldo beh le aspettative sono differenti se invece Moise Ken torna ad essere un vice e quindi un giocatore non titolare ma un giocatore che deve entrare nelle rotazioni ci può stare però dopo deve incidere all'interno di queste rotazioni e sicuramente non deve avere un costo a bilancio così elevato quindi la Juventus farà di tutto sicuramente per cercare di spostare Moise Ken e qui si apre il dubbio perché se ci pensiamo Dybala, Morata, Ken e Vlaovic questi erano i quattro attaccanti della Juventus all'interno della Rosa e le quattro se vogliamo punte tra virgolette anche se sappiamo che Dybala comunque non è proprio una prima punta, Morata e Ken sono prime punte atipiche comunque classifichiamoli come attaccanti Dybala non rinnova, Morata molto probabilmente non verrà riscattato da Juve anzi oggi leggevo di un interesse dell'Arsenal per il giocatore che non è nemmeno una novità se proprio vogliamo Moise Ken che a quanto pare ha chiesto lui stesso di lasciare la Juve probabilmente non si trova più bene in questa condizione e Vlaovic è il punto fermo, il vero unico punto fermo aspettando Federico Chiesa e aspettando qualche colpo di mercato come può essere Di Maria, come può essere Kostic, come possono essere tanti nomi che sono stati accostati e quindi anche magari proprio lui il cionito Simeone alla Juventus in queste ore e in queste settimane. Io dico perché no? Credo anche che Simeone abbia voglia in realtà di un'avventura differente all'interno della sua carriera perché come dicevamo prima purtroppo per lui non ha mai vestito maglie particolarmente importanti tanto da poter sognare di vincere un trofeo, una competizione poi è ovvio che stiamo parlando di una Juve da zero titoli dopo undici anni quindi nemmeno noi siamo proprio la squadra ideale da questo punto di vista però sappiamo che la Juve sta lavorando proprio per tornare a vincere qualcosa, per tornare ad essere regina in Italia, ad essere competitiva in Europa e per farlo servono anche le seconde linee e se le seconde linee sono giocatori come Giovanni Simeone beh secondo me la Juve può assolutamente dire la sua ovviamente sperando che Vlaovic le butti dentro tutte ragazzi è stato abbastanza breve per i miei standard non ce l'ho fatto più, ho fatto una fatica incredibile non so nemmeno come farò quando si sgonfia un labbro dopo un morso, stavo mangiando un pezzo di pane e in realtà mi sono mangiato il labbro grazie a tutti